Buongiorno a tutti, allora mi sono messo le mani nei capelli, non vi faccio vedere per l'ennesima volta la maglietta perché due video ve l'ho fatta vedere, stavolta saltiamo, poi faremo vedere, tanto c'è tutta la settimana per farvela vedere la maglietta, si intende, e poi pensate chissà che cosa. Comunque stavo dicendo, mi sono messo le mani nei capelli che non ho perché veramente le partite di oggi di Champions sono, a parte una che teoricamente è scontatissima, poi sapete nel calcio non c'è niente di scontato, ma sulla carta questa è abbastanza scontata, le altre veramente sono da aiuto aiuto, ma veramente aiuto aiuto arriva il branco di lupi, non il lupo, il brancone proprio. Il Wapipi, il Waititi, lì come cavolo si chiama, ho visto ieri un documentario sui lupacchiotti, è bello, interessante, nel parco di Jellystone. Comunque, vabbè, a parte la cosa, andiamo subito a vedere la schedina perché veramente, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Allora, Sherry, Vittoria, Plitzen, 1-2. Ludo Goretz, Dinamo, Zagabria, 1-2. Monaco, PSV, Endoven, 1-X. San Giluas, squadra belga, contro i Rangers di Glasgow, 1-2. E infine, Benfica, Midtirland, 1. Schedina, alternativa. Sheriff, Plitzen, gol. Ludo Goretz, Dinamo, Zagabria, mio rischio e pericolo perché secondo i bookmaker non è una partita da gol, ma io ci provo, gol. Monaco, PSV, Endoven, over 1-1,5. San Giluas, Rangers, gol, sempre a mio rischio e pericolo. E infine, Benfica, Midtirland, over 1-1,5. Questa è la schedina per le partite di oggi, a partire dalle ore 19 che c'è Sheriff, vittoria. Plitzen. Andiamo a vedere il gigione che arrampicandosi sugli specchi, sui vetri, su quello che vuole, su qualsiasi superficie liscia, tipo Gatto Silvestro, è andato a scegliere le quattro partite, ma veramente non lo volevo fare, non volevo fare le bollette, perché veramente, a parte Benfica, Midtirland, sono partite da tripla. Anche se qualcuno, uno può dirmi, no, ma guarda che quella lì però potrebbe essere, ma almeno tre sono da tripla. Tre delle cinque sono da tripla. Diciamo che Monaco, PSV e Benfica, Midtirland forse, forse hanno una favorita d'obbligo, soprattutto Benfica, Midtirland. Le altre veramente non... Mi danno favorito al Vittoria, Plitzen, ma io vado contro pronostico. Dunque ho scelto Sheriff, Vittoria, Plitzen, Ludogore, Zinamo, Zagabria, Monaco, PSV e Benfica, Midtirland. E ho lasciato fuori la sfida tra Belgi e Scozzesi, perché era ancora quella più equilibrata delle equilibrate. Anche se il resto dell'idea ve la butto lì così, proprio come buttare i dadi e vedere cosa viene fuori. San Gisluo, Rangers, Isfisso, così, buttata lì proprio... Ma mi sembra di averlo... No, ho messo l'1-2, ma non so perché mi sento un X. Però lì ho voluto mettere l'1-2, perché ho detto ogni tanto le mie intuizioni non funzionano. Però la mia intuizione era un Isfisso. Ma andiamo alla bolletta delle fisse che mi sto dilungando troppo. Sheriff, Vittoria, 1. Ludogore, Zinamo, Zagabria, X. Monaco, PSV, 1. Benfica, Midtirland, 1. Con 5 euro se ne vinco, 151,57. Mettete delle doppie a vostra discrezione. Io la bolletta delle fisse l'ho rischiata così. Già se ne azzecco due su quattro e tanta roba. Proseguiamo con la bollettina number two. Sheriff, Vittoria, Multigolospite, 1-3. Ludogore, Zinamo, Zagabria, Multigolospite, 1-3. Monaco, PSV in dove, Multigolcasa, 1-3. Benfica, Midtirland, Multigolcasa, 2-4. Con 5 euro se ne vincono, 16,82, il minimo sindacale. Bollettina, number three. Con un'opzione, anche se potevo farne a meno, visto che già pagava libidine. Sheriff, Vittoria, 1-2, più over. Ludogore, Zinamo, Zagabria, X2, più over. Monaco, PSV in dove, 1-X, più over. Benfica, Midtirland, 1-X, più over. Con 5 euro già se ne vincono, 38,87, quindi eravamo a sette volte e mezzo all'apposta. Potevo lasciare perdere, però c'era quella partita lì che chiamava gioca, mi fissa, gioca, mi fissa. E allora ci aggiungiamo anche l'opzione one. Benfica, Midtirland, no scusate, Sheriff, Vittoria, 1-2, più over. Ludogore, Zinamo, Zagabria, X2, più over. Monaco, PSV in dove, 1-X, più over. Benfica, Midtirland, 1-P, più over. Con 5 euro se ne vincono, 46,91. Gli over, come sempre, sono over, 1,5. Andiamo alla bollettina number four che mi fa libidine. Sheriff, Vittoria, gol, casa. Ludogore, Zinamo, Zagabria, gol, casa. Monaco, PSV in dove, gol, ospite. Benfica, Midtirland, gol, ospite. Con 5 euro se ne vincono, 23,79, una cifra normale, diciamo. Vediamo alla bollettina number five. Sheriff, Vittoria, gol, più over. Ludogore, Zinamo, Zagabria, gol, più over. Monaco, PSV, gol, più over. Benfica, Midtirland, gol, più over. Con 5 euro se ne vincono, 177,48. Però Sheriff, Vittoria, il gol più over, non è favorito, ma proprio neanche per l'anticamera del cervello. Ludogore, Zinamo, Kiev, il gol più, Dinamo, Pliessen, scusate. No, Dinamo, Zagabria. Dinamo, Zagabria. Il gol più over non è favorito. Ho detto tutte le Dinamo, vabbè, lasciamo perle. Ludogore, Dinamo, Zagabria. Il gol più over non è favorito, ma non c'è una differenza abnorme. 0,50 è ancora trattabile, come si suol dire. Monaco, PSV, Benfica, Midtirland, i gol più over sono favoriti. Indi per cui o scegliete di giocare il no-goal più under per Sheriff, Vittoria, Ludogore, Dinamo, Zagabria e giocate il gol più over per le altre due. Oppure vi giocate i canonici due euro che vi consiglio sempre su queste bollettine qua e alla fine della fiera andreste a prendere una settantina di euro, più o meno, circa quasi. Oppure mi dite a Gigi, guarda, non è sicura, ne soprassediamo. O se no, come vi dico sempre, estrapolate una delle due partite favorite, le mettete in una bolletta insieme a un paio di partite ancora. O ve le giocate anche in singola che tanto pagano bene e vedete come va. Concludiamo infine con la bolletta folle. Sherry, Vittoria, uno più gol. Ludogore, Dinamo, Zagabria, X più gol. Monaco, PSV, Eindhoven, uno più gol. Benfica, Midtirland, uno più gol. Con 5 euro, vabbè, facciamo con 5 euro poi vi dico con 2 euro. Con 5 euro se ne vincono, con 2.145,18. Con 2 euro, 858,07. 858, dai. Ma siccome che Sherry, Vittoria non è favorito, Benfica, Midtirland non è favorito, l'uno più gol. Mentre invece è normale, Ludogore, Dinamo, Zagabria, l'X più gol è favoritissimo perché o finisce 0-0 se no qualsiasi ripareggio con un altro risultato la prendi. E Monaco, PSV, l'uno più gol è favorito. Non di molto, però è favorito. Quindi facciamo la bolletta alternativa. Sherry, Vittoria, uno più uno gol. Ludogorez, Dinamo, Zagabria, X più gol che resta uguale. Monaco, PSV, uno più gol che resta uguale. Benfica, Midtirland, uno più uno gol. Con 2 euro se ne vien con 320,68. Con 5 euro 801,70. Ripeto, non sono partite semplici, quindi magari non giocatevi il pronostico, vi scegliete il gol, il no gol, l'over, il multigol casa, multigol ospite, il gol casa, gol ospite, eccetera, eccetera. Ma sul pronostico, a parte Benfica, Midtirland, che pare scontata, le altre sono veramente molto, molto, molto toste. Come vi dico sempre, usate la vostra cavaessa. Io ho la pelata, non ho la sfera magica, nemmeno la DeLorean per andare nel futuro. Quindi per cui sfruttate i miei consigli e poi dopo vedete se vi piacciono o meno. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio e vado a caricare anche questo video perché entro le 4 e mezza vorrei che fosse online, magari anche prima. Ciao!